Ciao, sono la dottoressa Raffaella Tocci. Oggi ti voglio spiegare cosa sono e come si possono curare le verruche. Allora, le verruche, in termini medici, sono delle escrescenze dovute ad un virus che si chiama papillomavirus. Le possiamo trovare in varie parti del nostro corpo. Le possiamo trovare sulle mani, sui piedi, sui gomiti, lungo le braccia, sulle dita, nello specifico, o ancora in zone un po' più nascoste, come per esempio la pianta dei piedi. Le verruche si distinguono che per forma, colore e dimensioni. Quelle più comuni e più riconoscibili sono quelle di consistenza dura e colore marroncino. Possono avere una dimensione che spazia da un millimetro a dimensioni molto più grandi. Le verruche più dolorose in assoluto sono quelle plantari, cioè che vanno a stabilirsi proprio sotto la pianta del piede e che quindi un po' per la loro posizione, in quanto il piede appunto è sottoposto a sfregamento e al peso di tutto il nostro corpo, un po' per tipologia sono veramente dolorose. Le verruche si possono curare in tantissimi modi. Prima però voglio spiegarti come fai a prendere una verruca. Normalmente ci si infetta per contatto tra un soggetto infetto e un soggetto sano. Quindi è molto probabile che in ambienti particolarmente affollati si possano prendere le verruche, per esempio in piscina, camminando sul bordo della piscina senza le ciabattine, oppure nelle docce pubbliche, o ancora in tutti quei posti in cui magari è passata una persona che aveva le verruche che si entra in contatto con quella superficie. Ci sono vari prodotti che si possono utilizzare per la cura delle verruche. Alcuni sono prodotti cheratolitici che vengono applicati direttamente sulla verruca e quindi portano alla scomparsa della stessa. Oppure in alcuni casi si può utilizzare il trattamento con l'azoto liquido, in quanto l'azoto liquido viene applicato direttamente sulla verruca. La verruca quindi si indurirà. Man mano che viene applicato l'azoto liquido, la verruca si indurisce, viene grattata via la parte che si è indurita e viene applicato l'azoto liquido sulla restante parte di verruca, fino a scomparsa della stessa. Solo nei casi estremamente più complicati è necessario l'intervento del chirurgo che va a agire con un'incisione sulla verruca per asportarla. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto metti pure un mi piace o se commenti sarò pronta a risponderti. Grazie! Ciao!